il dottor marrand il più illustre ed eminente alienista aveva pregato tre colleghi e quattro professori di scienze naturali di venire per un'ora nella clinica che dirigeva allo scopo di mostrare loro uno dei ricovelati appena gli amici furono riuniti e gli disse loro sottometterò al vostro parere il caso più strano e inquietante su cui mi sia mai capitato di lavorare non ho niente da dire sul paziente perché sarà lui stesso a parlare suonò il campanello un inserviente fece entrare un uomo era magrissimo d'aspetto quasi cadaverico consumato dal pensiero insano che divorava la carne del suo corpo più della febbre o della tisi dopo aver salutato ed essersi seduto disse signori conosco il motivo per cui siete riuniti qui e sono pronto a raccontarvi la mia storia secondo l'istanza del mio amico dottor marrand per molto tempo sono stato creduto demente da parte sua adesso ha qualche dubbio tra poco vi renderete tutti conto che io ragiono normalmente con la vostra stessa lucidità disgraziatamente per me per voi e per l'umanità intera ma preferisco cominciare con l'esposizione di alcuni fatti fatti assolutamente comuni eccoli ho 42 anni non sono sposato e i miei beni di fortuna bastano farmi vivere agiatamente abitavo in una villa sulle rive della senna a biassar vicino guan mi piacevano la caccia e la pesca dunque io avevo dietro di me sopra le grandi rupi che dominavano la mia casa una delle più belle foreste di francia quella di umar e davanti a me un fiume che è tra i più belli del mondo la mia casa è vasta dipinta di bianco all'esterno piacevole tradizionale in mezzo a un grande giardino con magnifiche piante che salgono sino alla foresta oltre quelle rocce di cui vi ho detto tra i miei domestici ci sono o meglio c'erano un cocchiere un giardiniere un cameriere personale una cuoca e una lavandaia che fungeva anche da tutto fare tutte queste persone stavano con me alcune da dieci anni altre da sedici mi conoscevano bene conoscevano la casa il paese l'andamento della mia vita erano brave e tranquille questo è molto importante per quanto dirò in seguito aggiungo anche che la senna che costeggia il giardino è navigabile fino a guan come probabilmente sapete ogni giorno vedevo passare grandi imbarcazioni sia a vela sia a vapore provenienti da ogni parte del mondo dunque l'autunno dell'anno scorso fui colpito da una malattia bizzarra quanto inesplicabile all'inizio era una semplice inquietudine dei nervi che mi faceva passare intere notti in bianco una sorte di sovrecitazione che mi faceva trassalire al minimo rumore diventai irascibile avevo degli scoppi di collera improvvisi e inesplicabili chiamai un medico che mi ordinò una cura di bromuro e potassio e delle docce fredde facevo dunque docce sera e mattina e prendevo il bromuro effettivamente ripresi a dormire ma d'un sonno più spaventevole dell'insonnia appena coricato chiudevo gli occhi e mi annientavo sì cadevo nel nulla un nulla assoluto una specie di morte della personalità da cui ero tratto all'improvviso dalla spaventosa sensazione che qualcuno mi stava succhiando il petto e succhiava dalla mia bocca ogni energia vitale ah che incubi non c'è niente di più terrificante immaginate che qualcuno tenti di assassinarvi mentre state dormendo e di risvegliarvi con la sensazione di avere un coltello piantato nella gola mentre rantolate insanguinati e senza poter respirare ci si sente vicini alla morte senza rendersi conto di quel che è accaduto ecco dimagrivo in maniera preoccupante continuò m'accorsi che pure il mio cocchiere che era molto robusto aveva cominciato a dimagrire come me allora gli chiesi chi avete jean state male mi rispose credo d'essermi preso la stessa malattia del signore le notti divorano i miei giorni pensai a questo punto che doveva esserci nella casa una forma di infezione febbrile dovuta alla vicinanza del fiume e stavo per andarmene via per due o tre mesi nonostante fossimo in piena stagione di caccia quando una piccola circostanza bizzarra osservata per caso provocò tutta una serie di fatti inattesi inverosimili fantastici spaventevoli che mi indussero a rimanere una sera ebbi sete beve un mezzo bicchiere d'acqua notando che la caraffa poggiata sul comodino vicino al letto era piena sino al livello del tappo di cristallo durante la notte ebbi uno di quegli incubi spaventosi di cui vi ho parlato accesi la candela in preda all'angoscia e feci per bere di nuovo ma mi accorsi con stupore che la caraffa era vuota non potevo credere ai miei occhi o qualcuno era penetrato in camera mia oppure dovevo essere sonnambulo la sera successiva vogli ripetere l'esperimento chiusi a chiave la porta della camera per essere sicuro che nessuno sarebbe potuto entrare dopo di me presi sonno e poi mi ridestai come ogni notte qualcuno aveva bevuto tutta l'acqua che avevo venduto nella caraffa appena due ore prima chi aveva bevuto quell'acqua? senza dubbio ero stato io eppure ero sicuro assolutamente sicuro di non essermi alzato dal letto durante il mio sonno profondo e pieno di sofferenza ricorsi allora delle piccole astuzie per convincermi che non ero io a compiere quegli atti una sera misi vicino alla caraffa una bottiglia di vecchio vino di Bordeaux una tazza di latte che detesto e alcuni dolcetti al cioccolato che invece mi piacciono molto vino e dolcetti erano rimasti intatti il latte e l'acqua non c'erano più allora ogni giorno cambiai bevande e cibi le cose solide non furono toccate e quanto alle bevande sparirono solo il latte fresco e soprattutto l'acqua mi restava nell'animo un dubbio lancinante non ero io che mi alzavo senza averne coscienza e che bevevo anche le cose che detestavo oppure i miei sensi intorpediti dal sonno sonnambolico potevano aver perduto l'abituale ripugnanza ed essersi mortificati e aver acquisito gusti differenti adoperai allora contro me stesso un nuovo espediente avvolsi gli oggetti che dovevano essere comunque maneggiati con strisce di garza bianca e poi con un tovagliolo di batista poi al momento di coricarmi mi impiastricciai le mani, la bocca, i baffi con polvere di piombo allora si svegliò ogni cosa era immacolata benché qualcuno dovesse averle toccate perché il tovagliolo non era sistemato nello stesso modo in cui l'avevo lasciato io inoltre qualcuno aveva bevuto l'acqua e il latte eppure né dalla porta chiusa con una chiave di sicurezza né dalla finestra inchiavardata per prudenza qualcuno poteva essere penetrato nella stanza a quel punto non potevo farmi che questa preoccupante domanda chi c'era accanto a me tutte le notti? sento signori che il mio racconto procede con fretta eccessiva state sorridendo, vi siete già fatti un'opinione è pazzo avrei dovuto descrivere più a lungo l'emozione di un uomo che chiuse in camera sua in perfetta sanità di mente osserva dietro il vetro di una caraffa che una piccola quantità di acqua è sparita mentre dormiva avrei dovuto farvi capire meglio questa tortura che si rinnova ogni sera e ogni mattina e parlarvi del sonno invincibile e dei risvegli ancor più spaventosi ma continuo all'improvviso il prodigio finì non spariva più nulla dalla mia camera era finito stavo meglio naturalmente ma era tornato il buon umore quando venne a sapere che uno dei miei vicini il signor Legitte si trovava esattamente nelle mie stesse precedenti condizioni pensai di nuovo a un morbo che si era diffuso nel paese il mio cocchiere in gravi condizioni mi aveva lasciato da un mese intanto era passato l'inverno e cominciava la primavera dunque una mattina facevo una passeggiata nel roseto del mio giardino quando vidi vidi distintamente proprio vicino a me rompersi il gambo d'una delle rose più belle come se una mano invisibile l'avesse colta poi il fiore seguì nell'aria la curva che avrebbe descritto un brazzo che intendesse portarselo sotto il naso rimase sospeso nell'aria trasparente solo immobile spaventoso a tre passi dai miei occhi preso da folle terrore mi buttai sulla rosa per afferrarla non trovai niente era sparita allora mi prese un'ira furiosa contro me stesso com'è possibile che un uomo che ragiona possa avere una simile allucinazione ma era proprio un'allucinazione cercai lo stelo lo trovai subito sulla pianta spezzato da poco tra le altre due rose rimaste sul ramo quelle che avevo notato io erano tre vi entrai in casa sconvolto ascoltatemi signori io sono calmo io non credevo al soprannaturale non ci credo nemmeno oggi ma a partire da quel momento fui certo certo come dell'alternanza tra il giorno e la notte che vicino a me c'era qualcuno un essere invisibile che mi aveva plagiato poi mi aveva abbandonato ed era tornato di nuovo ne ebbi la prova poco dopo tra i miei domestici scoppiavano quasi ogni giorno delle liti furibonde per mille cose futili in apparenza ma che ormai per me erano molto significative un bicchiere un bel bicchiere di cristallo di murano si frantumò da solo sulla credenza della sala da pranzo in pieno giorno il cameriere incolpò la cuoca questo era tutto fare che accusò a sua volta non ricordo chi porte chiuse alla sera erano trovate aperte al mattino nella dispensa spariva ogni notte un po di latte che stava succedendo che fenomeni erano quelli una curiosità snervante con mistà collera e paura mi teneva in estrema agitazione notte e giorno poi ancora una volta la casa tornò nella normalità credevo ancora di aver sognato quando accadde il fatto seguente erano le nove di sera del 20 luglio faceva molto caldo avevo lasciato la finestra spalancata la lampada era accesa sulla tavola per illuminare un volume diversi di des musées aperto a la notte di maggio poco dopo mi stesi su una grande poltrona in cui mi assopii avevo dormito circa 40 minuti poi ho riaperto gli occhi senza fare il minimo movimento risvegliato da una certa emozione strana e confusa da principio non ho veduto niente poi mi è sembrato che una pagina del libro si fosse girata da sola dalla finestra non entravano soffi d'aria rimaci sorpreso ed aspettai dopo tre o quattro minuti ho visto ho visto sì ho visto con i miei occhi signori un'altra pagina sollevarsi e ricadere sulla precedente come sfogliata da un dito la mia poltrona pareva vuota ma io compresi che lui era là d'un balzo attraversai la camera per azzerrarlo se fosse stato possibile ma la poltrona prima che potessi raggiungerla si rovesciò come se ci fosse stato qualcuno che scappava davanti a me cadde anche la lampada e si spense mentre il vetro si ruppe la finestra fu spinta all'improvviso come se un malfattore l'avesse afferrata scappando e andò a battere contro i due cilindri che ne limitavano l'apertura mi precipitai a suonare il campanello quando comparve il mio cameriere gli dissi sono io che ho buttato tutto all'aria e ho rotto la lampada portami un altro lume non dormii più quella notte e tuttavia poteva trattarsi ancora di un'illusione quando ci si desta all'improvviso i nostri sensi sono appannati forse ero stato io stesso a rovesciare la poltrona quando mi ero precipitato lì come un pazzo no, non ero stato io non potevo aver dubbi nemmeno per un attimo e nonostante ciò mi sforzavo di crederlo un momento quell'essere, come lo chiamerò l'invisibile no, non basta io lo chiamo Orla perché? non lo so dunque Orla non mi lasciava più avevo giorno e notte la sensazione la certezza della presenza di quest'estraneo inafferrabile e anche la certezza che stava prendendosi la mia vita ora per ora minuto per minuto l'incossibilità di vederlo mi esasperava in casa accendevo tutte le luci come se in tanto chiarore ne fosse stato possibile scoprirlo ma finalmente lo vidi lo so voi non mi credete ma io l'ho visto me ne stavo seduto davanti a un libro qualunque ma non leggevo era un agguato tutti gli organi tesi in attesa di lui che sentivo vicino sicuramente era vicino ma dove? che stava facendo? come avrei potuto sorprenderlo? di fronte il mio letto un vecchio letto di querza colonnine a destra il caminetto a sinistra la porta che avevo ben chiuso dietro di me un grande armadio con leante a specchio che ogni giorno utilizzavo per radermi per vestirmi per osservarmi dalla testa ai piedi ogni volta che vi passavo davanti dunque stavo facendo finta di leggere per ingannarlo dato che anche lui mi stava spiando lo sentì all'improvviso fu certo che stava leggendo da sopra le mie spalle era vicinissimo quasi mi sfiorava l'orecchio balzai in piedi girandomi così in fretta che rischiai di cadere nella stanza ci si vedeva come se fosse stato di giorno eppure non mi vidi riflesso nello specchio era vuoto chiaro invaso dalla luce non rifletteva però la mia immagine e io ero posto proprio di fronte allo specchio vedevo il cristallo limpido e vuoto dall'alto in basso guardavo con occhi smarriti e non osavo fare un passo certo che si trovava tra me e lo specchio e che mi sarebbe ancora sfuggito ma certo anche che il suo corpo impercettibile aveva coperto il mio che doveva esservi riflesso ebbi una gran paura poi ecco che all'improvviso cominciai a vedermi in fondo allo specchio come in una nebbia come attraverso un vero d'acqua e mi sembrava che quest'acqua scivolasse da sinistra a destra lentamente rendendo sempre più precisa la mia immagine di attimo in attimo era come la fine di un'eclisse e ciò che mi aveva nascosto non sembrava avere contorni chiaramente delineati ma una specie di trasparenza opaca che si andava schiarendo a poco a poco poi mi rividi completamente come ogni giorno quando mi specchio l'avevo veduto ma sono ancora terrorizzato ne rabbrividisco ancora il giorno successivo ero già qui ho chiesto ad essere trattenuto ho finito signori il dottor Marrand dopo aver avuto dubbi per parecchio tempo si è deciso a fare da solo un viaggio al mio paese in questo momento tre dei miei vicini sono stati colpiti come lo ero io non è forse vero? il medico rispose con solennità è vero voi avete consigliato loro di lasciare ogni notte un po' d'acqua e un po' di latte in camera per vedere se questi liquidi sarebbero spariti è stato fatto così i liquidi sono scomparsi come in camera mia il medico confermò gravemente sono spariti e allora signori un essere un essere nuovo che certamente in breve tempo si moltiplicherà come ci siamo moltiplicati noi uomini è appena apparso sulla terra sorridete perché? perché quest'essere per ora è invisibile ma il nostro occhio signori è un organo talmente rozzo che può distinguere appena lo stretto necessario alla nostra esistenza gli sfugge quel che è troppo piccolo come quel che è troppo grande o troppo lontano non conosce i miliardi di microbi che vivono in una goccia d'acqua ignora gli abitanti le piante i giacimenti delle stelle vicine non percepisce neanche il trasparente mettetegli davanti un cristallo perfetto non lo riconoscerà e ci andrà a cozzare come un uccello che si rompe il capo contro i vetri di una casa e dunque non vede i corpi solidi e trasparenti che pure esistono non vede l'aria che lo nutre non vede il vento che è la forza più importante della natura che abbatte uomini case e alberi che solleva il mare in montagne d'acqua capace di far crollare rocce di granito non c'è da stupirsi che non si veda un corpo nuovo a cui manca sicuramente soltanto il potere di fermare i raggi di luce vedete forse l'elettricità eppure esiste quest'essere che ho chiamato Orla esiste anche lui chi è? è colui che la terra aspetta dopo l'uomo colui che ci toglierà ogni potere che ci farà schiavi che ci dominerà e forse si nutrirà di noi allo stesso modo con cui noi ci nutriamo di manzi e di cinghiali sono secoli che abbiamo il presentimento e il timore e l'annuncio del suo avvento la paura dell'invisibile ha sempre ossessionato i nostri antenati è venuto tutte le leggende delle fate degli ignomi delle presenze inafferrabili e malefiche parlavano di lui facendolo presentire agli uomini inquieti e già terrorizzati è tutto quel che fate voi stessi da qualche anno signori quel che chiamate ipnotismo suggestione magnetismo è solo l'annuncio la profezia della sua venuta io vi dico che è venuto ti gira attorno inquieto come i primi uomini sulla terra ancora inconsapevole della propria forza e della propria potenza che presto crescerà sin troppo presto e per finire ecco signori un brano di un giornale che ho trovato per caso e che viene da rio de janeiro dice una strana epidemia di demenza infierisce da qualche tempo nella provincia di san paolo gli abitanti di vari villaggi sono scampati abbandonando le loro terre e la loro casa affermavano ad essere perseguitati e divorati da invisibili vampiri che si nutrivono della loro forza vitale durante il sonno e che bevevano solamente acqua e qualche volta latte devo aggiungere che qualche giorno prima dell'attacco del morbo che mi stava facendo morire mi ricordo perfettamente di aver veduto passare un gran tre alberi brasiliano con la bandiera spiegata vi ho detto che la mia casa tutta bianca è in riva al fiume di certo si era nascosto su quel bastimento non ho altro da dire signori il dottor Marrande si alzò in piedi e disse a bassa voce nemmeno io non so se quest'uomo è pazzo o se non lo siamo entrambi o sei davvero arrivato colui che prenderà il nostro posto o se non lo so